bella raga bentornati al canale di zio jack anzi direi belli di zio ciao bellissimi allora oggi raga non siamo in live oggi proprio non liveiamo non streamiamo oggi facciamo una registrazione pura cruda ieri è uscito the division 2 il 2 secondo episodio di the division e noi giustamente per celebrare questo evento registriamo giustamente the division 1 perché sinceramente ci ho iniziato a giocare e non sono andato molto avanti un po complicato ma siccome mi sono messo d'accordo già con qualcuno che segue gli stream ha detto dai giochiamo insieme e ci sta iniziamo una nuova partita di the division 1 ragazzi io sono zio jack 410 vi ringrazio per i 22 subscribers su youtube per i following su instagram per il mi piace sulla pagina facebook non finirò mai di ringraziarvi raga perché comunque siete fantastici anche per avere il tempo di seguire le mie cagate raga ce ne vuole ce ne vuole grazie per tutto l'interesse adesso vediamo le immagini pubblicitarie di profumi ryan reynolds che insomma non ho capito bene cosa stiamo guardando probabilmente siccome parla di una new york penso che sia new york devastata dalla diffusione di un virus fatto circolare attraverso delle semplici banconote quindi però io pensavo all'inizio che era più un'epidemia invece è proprio una roba tipo militare e è un po complicato io l'ho trovato complicato come gioco ha delle meccaniche tipo open world di ruolo un gioco di ruolo militare in cui spara tutto in terza persona se non mi ricordo male che sia uno spara tutto in terza persona e niente io aspettavo the division 2 che si abbassava più o meno a 40 euro prima di comprarlo perché sinceramente e volevo finire appunto the division 1 per poi fare qualche live di trasmissione su twitch con il mio caro amico racco che mi potrà insegnare tantissimo di questo gioco e domani domani che domenica faremo un live stream con giallu gialluca 0089 76 55 io te lo giuro gialluca sto già registrando quando vedere questa puntata mi perdonerai spero adesso niente dobbiamo creare il personaggio e intanto a gialluca gli diremo guarda che domani giocheremo insieme è una promessa è una promessa domani domani giocheremo insieme a gialluca e così voglio giocare proprio a fortnite intanto ci facciamo il nostro personaggino a uomo assolutamente uomo però scegli uomo zio ok vediamo i tipi di volto che possiamo fare vediamo 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 questo no 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 direi di no 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 ok facciamo tipo questo oppure non ci stiamo a perdere troppo tempo sul tanto poi lo cambiamo colore del liride lo facciamo con gli occhi dai facciamolo figo con gli occhi proprio gelidi sì questi occhi azzurrissimi capelli 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 cambiamogli subito l'acconciatura e gli mettiamo uno stile a vedere di profilo come stai zio stai benissimo allora dai facciamo questo cappello così leccato all'indietro e la barba giustamente la barba la barba incoltissima perfetto colori dei capelli facciamo marroni come quelli dello zio tratti distintivi faccia cicatrici assolutamente facciamo una bella cicatrice eccola questa è la cicatrice migliore e le pitture di guerra no 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 non voglio pitture di guerra accessori vediamo cosa c'hai piercing occhiato figo ottimo lo facciamo più cazzuto possibile dai no figo figo assolutamente no raga eccolo è lui è lui è lui è il nostro è il nostro uomo l'agente riudorox 666 è lui è lui l'abbiamo trovato l'abbiamo trovato riga ci siamo siamo pronti per iniziare per giocare sì abbiamo un'arma nuovo obiettivo riparati e beh come primo obiettivo direi chi ci sta cioè è giusto sapersi guarda che ci siamo già i primi x vicino al riparo per usarlo usare i ripari essenziale per sopravvivere è quello anche nella vita è così cioè bisogna usare i ripari dai zio vai a riparo come cazzo si corre questo gioco riparati qua sì io vorrei anche correre vabbè ok poi cosa ci dice mira con l2 spara con r2 perfetto se se passa l'arma da fianco e come si fa passare l'arma da fianco col triangolo premi due volte quindi non una volta due volte per impugnare l'arma da fianco ok suppongo che bisogna spara il bersaglio con l'arma da fianco dove è il bersaglio dove sta il bersaglio ok mi sa che l'abbiamo fatto no sì ok questa è la mia posizione un attimo che è tutta c'è tutta la schermata è tostina da capire 141 metri fa rapporto il gtf nel rifugio voglio passare l'arma principale però e vorrei anche imparare come correre ok vediamo un po gli indicatori a questa è la mia mappa benissimo ma riga siamo con the division 1 perché ancora a corre lui da solo perfetto un po corre un po lento zio e poi non c'è niente questo questo chi è un nemico e io ragazzo andai proprio no tu non sei un nemico tu sei un civile ok niente sto giocando a the division 1 proprio perché essendo uscito ieri the division 2 mi sembra giusto mi sembra giusto farvi conoscere anche questo titolo che magari voi lo conoscete sicuramente meglio di me però insomma male non fa anche perché tanta the division 2 costa troppo quindi non lo compriamo non ci giochiamo aspettate perché poi faremo dei bei live streaming insieme al nostro amico racco e mi scuso con gianluca che non ho accettato il party ma domani domani faremo un bel fortnite insieme a lui quindi domani ci sarà un live stream della madonna con gianluca su fortnite che tra l'altro devo anche aggiornarlo perché l'ho proprio disinstallato per recuperare spazio ah ecco si corre con questo ok bene ci manda qua fai rapporto gtf sì noi ci nascondiamo perché non sappiamo cosa ci troviamo qua vediamo un po se c'è qualcosa da pigliare qua immagino di no ok non c'è niente a parte porte che non si possono aprire sono tutte le valigie accate il zio che disordine che c'è sta casa ha chiamato una donna delle pulizie perché sono qui veramente tipo sepolti in casa questo è il rifugio perfetto apriamolo ora puoi raggiungere questo luogo con lo spostamento rapido ok interessante venditore equipaggiamento entra in contatto con la gente della divisione fai elù fai elù fai tu minchia vedi ci sono ci sono talmente tanti segnali nella mappa che è difficile anche capirci qualcosa cioè allora capiamo un attimo ah questi ok ho capito ho capito questi sono i giocatori online quindi quelli segnati col bollino verde e i è il punto informazioni suppongo no cosa cazzo è i ah i è dovrebbe essere il deposito in inventario perfetto è il deposito delle scorte benissimo e il carrello è il tipo che vende le scorte che non sappiamo nemmeno anche cosa comprare ancora visto che abbiamo iniziato adesso il gioco quindi insomma lo impareremo poi e andiamo allora da quest principale andiamo da fai elù andiamo a parlare con la tizia che ci ha detto aspettare noi aspettiamo ma ci abbiamo anche prescia cioè non è che possiamo aspettare chissato quanto l'altro devo attivare i sottotitoli subito quindi saltiamo sta presentazione e attiviamo per prima cosa i sottotitoloni allora i sottotitoli dove sono lingue di gioco ecco li mostra sottotitoli sì a posto abbiamo attivato anche i sottotitoli così almeno le riusciamo a leggere benissimo quello che ci dice allora tizio seguo troppo uguale a me già non ci siamo non ci siamo proprio allora diamo il portatile richiede un rapporto alla situazione ok premi option e vai a schermata di abilità per attivare un'abilità bene già ci fa iniziare ad attivare un'abilità quindi facciamo già dei tratti distintivi per il nostro penso personaggio allora medico tecnologico sicurezza uno scudo balistico in grado di assorbire i danni quando attivo può impugnare solo l'arma da fianco non male invia un impulso che identifica i nemici alleati attraverso pareti ripari ok questo potrebbe essere interessante in co-op sparo una bomba con detonatore di distanza che dirisce ma no questa non mi interessa però dunque vediamo un po' queste sono le abilità quindi supponso che dopo posso sbloccare cura tutti gli alleati a breve distanza piazza una stazione in supporto in grado di curare gli animali gli alleati cura te questo è interessante il medico il medico vediamo un po' quello dopo il riparo intelligente rinforzo il riparo ok riparo mobile riparo temporaneo reti di sopravvivenza quasi quasi fare il medico si assegniamo l'abilità lo slot vai anche poi posso fare posso avere anche penso due abilità quindi potrei anche fare medico e sicurezza alla fine così almeno però intanto quello del medico è interessante quella del medico è davvero interessante premier 1 per usare l'abilità attivata perché non me la fai usare ma hai detto che posso usarla cioè fai promesse che non puoi mantenere vabbè non me la fai usare come cazzo si usa la vita ok seleziona missione ci fa selezionare la missione missione secondaria andiamo a farla vai andiamo subito a imparare a giocare a vedi c'è anche l'indicatore nella mappa come ecco e magari le capriole evitare perché non farti male prima di iniziare a giocare ok la posso già usare qua fuori quindi proprietà colpo critico metti in sicurezza l'area non è che posso vedere chissà tutti quanti i nemici però insomma facciamo qualcosa di professionale dai raga allora dobbiamo entrare dentro sta forte zona non non è il massimo nel senso non so che cazzo sto sparando ok non ho sparato nessuno dio grazie da qui come cazzo si forse si entra da qua sicuramente si no qui c'è le cose a metti in sicurezza l'area e noi stava stavamo andando metti in sicurezza l'area ma non so da dove si entra forse di qua vediamo un po non c'è un ingresso come faccio a mettere in sicurezza un ingresso che non esiste allora qui ci sono i mucchi madonna che sporcizia amici qui proprio veramente siamo nel nel ciume recupera gli scorti di cibo si è tutto molto figo ma non posso entrare cioè come cazzo si entra qua allora vediamo un attimo a me la cosa prima cosa che mi viene in mente a forse dal camion dai non ci credo ok no questi sono semplici carriere della spesa però io suppongo che dal retto del camion posso entrare no non mi ci fa nemmeno salire cioè già già non lo stiamo andando benissimo nel senso che se non riusciamo nemmeno andare alla prima missione come cazzo facciamo andare avanti forse si entra dal retro vediamo un po adesso lo giro tutto sto posto ah forse si entra da qua eh regà bastava guardare un attimino se forse abbiamo trovato l'ingresso regà non disperate forse ci siamo no questa è l'area ma non si entra da qua ma che cazzo cioè ma che cazzo di missione 47 metri quando sei dietro il riparo punto l'episodio ok va bene tutto molto figo ma non riusciamo a entrare in ogni caso qua c'è la mezz'ora che sto girando come un pollo per capire dove cazzo si entra cioè non posso salire nei bidoni non posso ah nel camion posso salire quindi forse posso anche saltare no non posso nemmeno saltare ma che cazzo ah ecco dove si entrava perfetto vabbè almeno l'abbiamo trovato premi vicino all'ostacolo per arrampicare potevi anche prendiamo la pistola va cerchi indizi subito cerchiamo subito gli indizioni però magari c'è qualcun altro che arriva evitiamo c'è una possibilità che nemici lasciano il bottino facciamo una per cui si facciamo come i cadaveri di red dead redemption proprio li perquisiamo tutti allora farò una serie di puntate da tre quarti dura luna che metterò sul canale youtube purtroppo oggi non stremmeremo perché andiamo proprio di gameplay perché il weekend non stremmiamo allora dunque ci dice che segui il radio faro della jff si va bene facciamo come dici tu ok saliamo sul camioncino quello che doveva far prima tra l'altro ma non siamo riusciti a fare quindi allora vediamo un po il radio faro e radio faro sta di qua adesso mi armo e vediamo se abbiamo 898 colpi però posso usare la mia abilità suppongo esatto esatto quindi che cazzo sei un nemico non sei un nemico morite cazzo sì sì cazzo perfetto li abbiamo fatti fuori quasi tutti forse dovevo ripararmi era meglio che mi riparavo 12 exp bene 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 stiamo anche guadagnando un pochino di esperienza io però lui lo voglio perquisire perché non me lo fai perquisire e non me li fai perquisire cazzo allora interagisci marca per la j etf marcato marca le scorte per a qui arriva la gentaglia raga è fortuna che ci abbia la mira automatica perché sennò qui era un problema cazzo raga fanno male fanno proprio ma però è figo però è figo sì sembra abbastanza carino ottimi sei arrivato un po troppo vicino eh ti prende tutta sta confidenza che non stiamo andando bene ok abbiamo messo in sicurezza l'area sembra non c'è nessun altro da uccidere abbiamo preso qualcosa anche per l'inventario perché noi facciamo proprio gli avvoltoi vediamo un po' che altro c'è da prendere c'è mi segnala qualcosa sì un proiettile esplosivo interessa gli oggetti saccheggiati finiscono il tuo inventario premi option per aprirlo ed equipaggiati vai vediamo subito cosa possiamo equipaggiare parloramica mi sa che abbiamo trovato qualcosa qua una pistola però questa fa meno danni di quella che abbiamo noi quindi questa non l'equipa però c'è una velocità di ricarica migliore vabbè non ci interessa non ci interessa proprio dotazioni non abbiamo dotazioni quindi andiamo direttamente avanti qui entriamo in un luogo buio e oscuro marchiamo sempre per la nostra jtf che non so sarà boh jesus christ super star non lo so tra l'altro l'ho seguita niente la storia quindi è normale che non sa più un cazzo ok 35 sono disponibili altre missioni eh grazie ok abbiamo trovato una pistola sembra la prendiamo eh quindi qua possiamo un attimo perlustrarci con calma l'area e vedere se c'è qualcosa che possiamo arraffare facciamo proprio gli arraffoni lo stile nostro è fighissimo cioè siamo proprio dei figli della madonna un incrocio tra solid snake e tipo z osborne meravigliosa ok andiamo a farci un'altra missione secondaria dai visto che siamo in ballo balliamo dai facciamoci questa anzi prima vediamo anche la pistola che abbiamo trovato giusto per vedere se magari è meglio di quella che noi abbiamo oppure oppure no allora inventario tre oggetti abbiamo trovato una corazza però interessante questa questa è meglio di quella che abbiamo noi quindi la equipaggiamo subito questo è sbloccato è bloccato questa pistola sembra però mi dice che è meglio ma cos'è meglio 119 di danno perché me la dice che è migliore cpm carica ah ma devo guardare questo devo guardare arma da fianco dai equipaggiamola equipaggiamola se mi dice che è meglio è meglio cioè magari non non bisogna starci a vedere troppo ok ragazzi stiamo andando alla seconda missione secondaria di The Division 1 colgo l'occasione mentre andiamo avanti per la strada di ringraziarvi per i subscribing su youtube per aver messo mi piace alla mia pagina facebook per i following su instagram e grazie per aver tempo di seguirmi di stare dietro alle mie cagate e soprattutto grazie per insomma visualizzare i miei video e vi ricordo che abbiamo anche un portale web che è su https ziojack810.weebly scritto con due e quindi weebly con la y.com comunque tutto lo trovate su instagram eccetera soprattutto nei vari link ai post trovate tutto e ho deciso di farlo perché forse è un metodo anche un pochettino più semplice per vedere tutti i video l'archivio video senza dovervi far spostare tra un canale e l'altro comunque siccome è uscito The Division 2 noi stiamo giocando giustamente per restare a passo con i tempi con The Division 1 noi facciamo questo siamo un pochino fuori contesto come tipologie di gioco perché giocare alle novità quando possiamo avere le vecchie glorie allora qui c'è una c'è una i non so cosa sia adesso andiamo a vedere andiamo a vedere cosa c'è qui ah rifornimento quindi non è la i nella mappa è un sono le munizioni è il simbolo della munizione che cazzo lo schermo è piccolo non ci leggo nulla però andiamo intanto verso la missione secondaria noi corriamo ma magari ci sono anche dei nemici non lo so no questi me li segnala tutti in verde quindi è comodo sto sta stabilità di vedere i eh questi parlano ok è comodo vedere questa stabilità di capire chi ci sono tra i nemici oppure i civili eccetera ok qui c'è una missione penso che sia questa la missione secondaria c'è delle gallerie andiamo subito vediamo cosa di che morte dobbiamo morire interagisci eccoci siamo pronti intanto vediamo se c'è qualcuno ah quindi mentre mettiamo anche la scansione abbiamo anche la probabilità di colpo critico fighissimo interessante e comunque non ho visto nessuno cerchiamo di alzarci magari ok andiamo a seguire il nostro fantastico waypoint c'è nessuno non vi vado andiamo andiamo ragazzo allora qua non ci sta nessuno andiamo su per la scaletta così vediamo anche il posteriore dell'amico nostro obiettivo completato accedi al cortile sì c'è un simbolo verde non vorrei che metti in sicurezza l'area va benissimo ah eccole eccole io tra l'altro stavo andando molto tranquillo intanto come si fa a mettere le granate mi chiedo no mi chiedo come si possono mettere le granate eccole ale perfetto più in sicurezza di così l'area non potevamo fare ah è il caso di provare la pistola nuova giusto è un po' di danni di fa dai questa metalliatrice non è il proprio il massimo della precisione magari troveremo troveremo in giro qualcosa sicuramente di meglio ok abbiamo liberato diciamo l'area quindi adesso possiamo anche andare a setacciare un po' i cadaveri in giro vediamo un po' ecco tipo lui dovrebbe avere qualcosa no non c'è un cazzo tu non c'hai niente non c'avete niente raga allora adesso andiamo a vedere qua alla reception se c'è qualcosa di interessante sembra di no un po' di esclamativo apriamo la porticina prego prego vi abbiamo salvato vai missione secondaria completata siete salvi raga fuori dalle palle non c'è ah vedi 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 raga abbiamo trovato anche l'SMG più potente quindi c'è andata proprio di culo saccheggia subito abbiamo raggiunto anche il livello 2 molto 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 bene stiamo andando proprio benissimo inventario vediamo un po' gli nuovi oggetti nell'inventario abbiamo trovato questo SMG ma cos'è ma che stiamo scherzando cioè ma avete visto che roba ma è piccolissimo vabbè equipaggiamolo abbiamo anche un fucile a pompa ottimo ma questo è piccolissimo sembra il grillo parlante quello di Man in Black cioè oh se raga dice che è più potente Jack si fida non so se voi vi fidate se l'avete mai trovato una pistolina piccolina così però vabbè dai utilizziamolo magari ci potrebbe dare delle grandi ci potrebbe riservare delle grandi sorprese speriamo speriamo e vi ricordo che questa puntata durerà circa 45 minuti verrà pubblicata sul canale di Youtube quando la vedrete perché chiaramente non siamo in live stream ormai ho la deformazione professionale di parlare come se fossimo in live stream però non è così guardate quanto è piccola sta pistola sta mitagliatrice però dice che più potente noi ci fidiamo allora ho lasciato tra l'altro una qualcosa mi sembra qua perché vedo nella mappa eccolo infatti lo zainetto apriamo non so cosa abbiamo preso ma lo insomma lo scopriremo qui c'è un cazzo medico non lo so bene partiamo con la terza missione secondaria a questo punto siamo a Brooklyn siamo a Brooklyn quindi proprio a New York c'è la gente che mi sta parlando tipo Martin Hazen che sembra che mi stia inviando di istruzioni sto ignorando categoricamente allora io suppongo che possiamo andarcela anche per di qua è interessante questa cosa facciamo molto prima piuttosto che prendere le scale e tornare giù dai scendi giù non aver paura di cascare su allora c'era qui mi dice che c'è qualcosa e infatti c'era la scatola di rifornimenti qua ginocchiere protettiva come fa il lavoro ottimo così almeno se dobbiamo andare in scivolata a fare un bugger comunque siamo stra protetti corazzo ginocchiere protettive vai equipaggiate così zio puoi giocare a pallavolo come tipo allora vediamo un po' se voi siete buoni sì eh spero ok loro sono buoni quindi abbiamo ce ne siamo accertati perché ho visto dei tipi inquietanti col cappuccio che ci venivano addosso ho detto sarà che questi non mi fa la pellaccia posso facciare le capriole più o meno la città è devastata esattamente come quella di resident evil 2 ma anche questi sono buoni nessuna minaccia trovata dio grazie visto che noi sappiamo sparare molto bene interessante come titolo so che non ho avuto insomma il riscontro positivo che si aspettavano per quanto sia un ottimo titolo penso che il lancio doveva essere lo speravano in meglio in realtà non è andata così bene da quello che mi ricordo quando si parlava con the division 2 metti in sicurezza l'area e io faccio la stessa cosa di prima vediamo se riesco a beccarli con la granata così mi sa di sì che li abbiamo presi no non abbiamo fatto un cazzo proprio levati civile ma vaffanculo se ti metti davanti certo che non ti aiuto ok e uno l'abbiamo ammazzato proviamo un po' con la pistola va ah vi siete coperti bene eh eh bisogna che mi avvicino perché non riesco a fare un cazzo da qua ehi ci provate eh ci provate a uccidere il vecchio zio jack ma ah beh sì te sì che sei una mente strategica all'avanguardia che ti metti sopra i tettini delle auto per ripararti anche te zio vai vai perfetto raga abbiamo messo anche in sicurezza quest'area siamo troppo avanzati si vede che sono gli occhiali cioè sono gli occhiali da tipo da riverendo che gli fa un paura allora vediamo un po' cosa possiamo far qua ah sì sempre questa marca per la jtf sì per jesus christ superstar ok manca marca la morfina per il recupero te l'ho marcato cosa devo far di più ah devo difendere l'area va bene difendiamo anche l'area arrivano da tutte le parti cazzo sei un pollo un po' mettiamo un po' la pistola che se no ci consumiamo già tutti i colpi eh però dai però un po' di danni li fa la mia pistolina nuova trovata io quasi quasi metto la oddio questa arriva da qua no 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 la granata no toglila toglila zio no io non è che non mi voglia rendere oh cazzo ma come cazzo si leva la granata ma va ti ho mai fatto sprecare un sacco di tempo ok meglio metterci dietro le macchine per ripararci qui per aver messo per sbaglio una granata l'ho pagata prendendo un medikit comunque raga è proprio la mia maledizione cioè giocare con il raffreddore in posti innevati veramente è la mia maledizione degli ultimi giorni dopo Red Dead Redemption ok ce ne manca solo uno ah no eh sì cazzo uno questo è un civile tanto quanti siete zio cioè minchia quanti siete sono tantissimi raga proprio sono tanti non mi stanno facendo nemmeno benissimo cioè sto sprecando medikit in continuazione obiettivo completato perfetto abbiamo messo anche in sicurezza l'area quindi direi che siamo anche abbastanza tranquilli qui ci sono corpi da saccheggiare ma non possiamo saccheggiare probabilmente li fa lui anche in automatico non lo so come funziona il saccheggiamento delle vittime sì mi sembra che lui prenda ah no cos'è questo M70 Express prendi tutto sì prendi tutto tu non ti fa di sti problemi una scatoletta di cibo ecco già interessante perché la fame col freddo arriva sempre prima quindi niente abbiamo fatto anche questa missione praticamente cioè andiamo per la andiamo per questa missione qua missione secondaria che sta vicino al rifugio ne abbiamo un po' di strada da fare però intanto vediamo questa New York prima vediamo un attimo cosa cazzo abbiamo preso nell'inventario abbiamo preso un'arma che è un fucile a pompa niente non ci serve però abbiamo preso anche una corazza protettiva nuova bene ci corazziamo proprio pesantemente la figola la caratteristica di sto gioco è anche figo tipo fare uno sparatutto così in modalità tipo gioco di ruolo e open world proprio tattico è bella l'idea tocca vedere alla lunga quanto è rottura di palle o meno quindi non lo so insomma lo vediamo intanto noi stiamo allenando stiamo facendo un po' di exp per poter arrivare al 13 prima di giocare in co-op con racco e lo faremo lo faremo prestissimo magari una sera facciamo un live stream proprio verso le 8 e mezza e domani invece ce ne giochiamo a fortnite manderò un messaggio al mio caro amico Gianluca che oggi purtroppo gli ho dovuto dar buca però insomma domani sarà una giornata fortnite magari la mattina un paio d'ore così insomma vediamo se riusciamo a sopravvivere più in co-op rispetto a singolo sicuramente io sarò quello che verrà fatto fuori prima sicuramente l'altro c'è la stagione 8 io ho giocato cioè ho fatto tre partite giusto alla 7 ma solo perché è free to play ok sembra che la missione secondaria bisogna passare per il rifugio passiamo per il rifugio eh no penso proprio ah no è la missione secondaria da far rapporto all'ufficiale della JTF perfetto abbiamo missione secondaria completata abbiamo preso un po' di punti esperienza ed è quello che ci abbiamo raggiunto anche il livello 3 interessante abbiamo un po' di rifornimenti due medikit perfetto quindi ci siamo anche riforniti e niente c'è un assedio al distretto da quello che vedo proprio la missione mi butta là andiamo direttamente al distretto con il nostro fantastico mitraglino tra l'altro abbastanza impreciso non so se era meglio quell'altra però 140 metri per la missione capriolo ogni tanto ci sta allora oggi raga sto a stream con l'elgato con la mia vecchissima elgato infatti come vedete nonostante il gioco sia per playstation ma siccome faccio gameplay non posso stare in live colpa della connessione che sbalza quindi purtroppo oggi fino a che non me la riparo non starò in faccio proprio gameplay tattico così senza live allora qui però questa invece è una missione ok matchmaking rapido difficoltà premi difficoltà normale ah beh qui proprio col matchmaking vai troviamo gli agenti in posto alla difficoltà non ci sarà nessuno chi cazzo gioca ancora a The Division infatti forse eccoli loro sono gli agenti miei si 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 vai perfetto noi ci buttiamo qui sotto ok dai sta andando sta andando anche abbastanza bene più o meno se non mi sparavano tre volte in testa no non devi andare su devi ricaricare l'arma zio eh ma guarda vai tranquillo che anch'io non lo stavo di zio quindi cazzo tosto questo da buttare giù questo lancio una granata via riga eh sono disorganizzati manco manco poco però questo lancio una granata via stanno a sparare di tutto proprio disorganizzati cazzo credici c'è un altro ahia devo curarmi di brutto ok perfetto adesso basta scappare perché c'è una granata che ci sta per esplodere perfetto ce l'abbiamo fatta abbiamo liberato il distretto sembra per il momento solo uno stile ok andiamo di qua invito ricevuto ok grazie per l'invito ci prendiamo il kit medico oh cazzo questo è corazzatissimo zio ahia madonna che bastonata che mi hai dato minchia ma tu mi arrivi così a brutto muso con la mazza da baseball cioè sei un pazzo no ragazzi ho l'arma che fa schifo veramente fa schifo c'è la mitraglietta penso più imprecisa del mondo è la pistola più schifosa del mondo penso aspettiamo un attimo che si ricarica la barra dell'energia ancora un sacco di gente passiamo al fianco facciamo una manovra a tenaglione proprio ahia e questo dove cazzo ma vai dai cioè ma da dove arrivava questo cioè il tipo con la mazza da baseball era una rottura di palle ma dai non mi far fare da sto checkpoint qua ah cazzo facciamo la sedione al distretto ma cioè ah stavolta l'ho preso però minchia è scomodissimo non c'è un cazzo da fare con sto joypad sono proprio negato no non salire sulla macchina cazzo forse devo stare un po' più in riparo beh non mi sembra amico perché a me mi hanno seccato forse sono io il non professionista sicuramente arriva il tizio con la mazza via che rottore di palle questo con la mazza davvero proprio un gran rottore di palle minchia raga cioè comunque ti fa stare concentratissimo sto gioco sei proprio ecco bravo bravo jack ottimo applausi applausi anche sparare addosso ai barili fantastico per quello che proprio ci stava sparare addosso ai barili bene e ricominciamo un'altra volta questo pezzettino no ragazzi ragazzi non ce la posso fare ma poi sembra che sparano solo a me cioè ci sono anche gli altri sparate anche a loro minchia fanno malissimo ma non ho capito sinceramente nemmeno da dove cacchio mi sparano perché sono anche abbastanza coperto no non vediamo quanti sono perché cazzo c'è non mi sembra però bene almeno abbiamo preso un kit medico medicotto medikit grazie grazie ma non sono stato io a sparare vediamo un po' se abbiamo qualche arma che possiamo utilizzare sicuramente meglio di quella di questa qua perché allora la precisione rispetto a quest'altra è molto meglio bah non lo so raga con quest'arma mi ci trovo veramente male ma proprio male ecco tipo questa è più precisa è più stabile riprendiamo questa è M9 militare come pistola vediamo come ci troviamo se è molto meglio rispetto al farà anche meno danno ma almeno insomma basta che ci fa stare un po' in vita arriva il tizio con la mazza quindi io scappo proprio me la do a gambe guarda che c'è una rottura di palle infinita te lo dico già ma guarda che roba o vado alla cazzona mi stanno mazza ecco posto raga mi hanno ammazzato un'altra volta a questo punto direi che la ricominciamo nella prossima puntata questa terza missione di quarta di The Division 2 e io vi saluto qua grazie per i sub su youtube grazie per i following sulle pagine facebook e instagram e vi aspetto per la prossima puntata di The Division senza bestemmiare troppo con quelli sulla con quelli con la mazza e quindi ci vediamo zio jack vi ringrazia e ci vediamo domani per un live stream di fortnite con il nostro caro amico che ci vediamo grazie a tutti per la prossima puntata